Categoria, pensi, meglio non la stabilisca Signor Ernst Stamper, siamo pronti a far entrare con il peso di 69,3 kg Rompatemi la Spagna Alarmada blu, Gustafá Genli Alla dopo Mustapha Ascendoli Maldarazzini vieni Uno a Sinovoli Sette dei quali per la scatola di Lato e la Spagna Mustapha Ascendoli Signori, forza ragazzi carica Con il peso di 68,5 milioni anni Nasce la legge in Romania Vivi, ambita, arroba Con base in Italia Casenderia Grazie a tutti! 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 a te, Salbito avvicinati, avvicinati stai vicino, muovi il tronco stai vicino muovi il tronco stai vicino, Ori, a stare vicino con scatto, Ori, con scatto non rimanete i colpi, eh più veloce con quei colpi più veloce non ci rimanere sui colpi alza le mani non rimanesti colpi, Ori, vaici dentro levati dal lì orial, esci esci dalle corde, Ori, esci dalle corde stai attaccato, Ori metti le mani sotto attento buttate ghiaccio non isolare, dai non ci rimanere lì scarica, scarica, scarica guarda basta destra arza le mani dentro sotto, dentro sotto carica sotto ok, dai, va bene e chiudilo sotto forza metti, 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 metti orial, vestalo sotto e mi alzo sopra forza fondalo sotto ok, vai, vai bravo dai, dai, dai sott'è sopra sott'è sopra dai, Ori, dai, bravo, dai guardalo sotto e sopra sotto e sopra bravo, continua carica di più non rimanere là non rimanere sui colpi là, ora via, vieni via via, fegato, fegato montante balza la testa non ti fanno crociare alza le mani alza le mani 10 occhio per ti crocia lì là a la a a a f slash In Italia è complicato. Vabbè l'Italia! Vabbè l'Italia! Vabbè l'Italia! ... Arriba. Allà uno! Il momento è estepato, non sta mantenendo l'Byte! Questa un po' ar lum 곳! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.